Ferramenta Pasqual si occupa della vendita di articoli di ferramenta e utensileria ma anche di articoli industriali Siamo in via Malcanton, Malcontenta 31, a Venezia Ferramenta Pasqual nasce dalla mente del signor Pasquale Eugenio e si occupa della vendita di articoli di ferramenta e utensileria ma anche di articoli industriali come tiranti e funi d'acciaio Ferramenta Pasqual fornisce anche prodotti inerenti l'antinfortunistica 626 che comprendono articoli, attrezzature, calzature e abbigliamento specifico L'attività di Ferramenta Pasqual propone assortimenti completi di utensili, cartellonistica e bulloneria Colori, vernici e smalti costituiscono un vasto assortimento per la vendita al dettaglio di Ferramenta Pasqual che garantisce prodotti di alta qualità e sicurezza anche su richiesta Puoi rivolgerti a noi anche per attrezzature e utensili come ganci metallici, funi di acciaio, fasce e tutto per il sollevamento Lo staff di Ferramenta Pasqual assicura un servizio competente ed efficace con consegno a domicilio al fine di risolvere in modo veloce e sicuro le diverse esigenze proponendo soluzioni differenti e offrendo una vasta gamma di scelta nella vendita dei suoi prodotti Ferramenta Pasqual ti aspetta! Vieni a trovarci!